Si continua a parlare molto del futuro di Benitez, ieri era circolata l'ipotesi di un incontro tra il tecnico e il Napoli, in realtà oggi Tommaso Maschio, l'agente dell'allenatore, che cosa ha detto? L'agente ha smentito questo incontro e qualunque voce su squadre interessate a Rafa Benitez, non c'è stato l'incontro e Benitez non sta trattando con altre squadre, il rinnovo è ancora possibile, anche se molto difficile, vista la distanza che comunque permane fra le richieste del tecnico e la volontà di De Laurentiis. Il tecnico vorrebbe infatti un ruolo alla manager all'inglese, quindi molto più potere e un budget più elevato, mentre De Laurentiis vorrebbe continuare il suo progetto di crescita con un budget già fissato da tempo che non collimerebbe con i desideri del tecnico Benitez. Parliamo anche di calcio giocato, in particolare della Roma, perché oggi Garcià alla vigilia della partita contro il Sassuolo ha parlato, è stato molto esplicito, ha detto basta soffermarsi sul futuro, bisogna pensare al presente, in particolare a recuperare il secondo posto, ci sono le possibilità. Gianluca Losco. Sicuramente dopo una sconfitta è sempre meglio cercare di guardare avanti la sfida di domani contro il Sassuolo, Garcià si è detto molto fiducioso, cerca l'ipotesi del secondo posto, lui ci crede, la squadra ci crede, è un obiettivo che può restare raggiungibile, chiaramente i punti di distacco non sono così tanti e quindi ci sono tutte le possibilità. Il suo discorso ad ogni modo sembra un po' quello che fece dopo la partita di andata contro la Juventus, lui dice da questa partita ho capito che questa squadra può vincere lo scudetto, dopo un'altra sconfitta, quella contro l'Inter ha detto questa squadra può lottare ancora per il secondo posto, sicuramente da parte sua c'è la voglia di motivare i giocatori e l'ambiente non potrebbe essere altrimenti. Garcià ha parlato anche delle recenti vicissitudini che sono capitate ai Capitolini dal video di Dumbia che lui ha definito spazzatura perché ha detto lui, l'attaccante si è allenato molto durante l'intervallo, il video mostra solo il momento in cui io scelgo di far entrare i Turbi al suo posto, quindi non può mostrare quello che è successo. Ha parlato anche del ritiro che lo stesso tecnico francese ha deciso di non adottare, dice che è una scelta mia, il ritiro può fare bene e può fare male, vedremo insomma domani la Roma col Sassuolo come finirà. Domani la Fiorentina in campionato se lo vedrà Torino contro la Juventus nel tentativo di ripartire, di riprendere la propria marcia dopo tre sconfitte consecutive, era l'inizio di aprile quando i Viola in Coppa Italia perdendo la semifinale di ritorno hanno iniziato, Europa League a parte, la loro discesa, il loro periodo di grave crisi. Lorenzo Di Benedetto. Sì, era appunto il 7 aprile quando è iniziato il periodo più brutto della stagione della Fiorentina con lo 0-3 del Franchi contro la Juventus e da quel momento in poi la squadra di Montella togliendo appunto i quarti di finale di ritorno contro la Dinamo Kiev quando però anche in quell'occasione pur con gli ucraini in dieci uomini la Fiorentina ha rischiato di subire il gol del pareggio e dover andare ai supplementari, comunque tolta quella partita che è stata una festa per tutti i tifosi della Fiorentina il periodo nero della Fiorentina è proseguito con la sconfitta al San Paolo contro il Napoli per 3-0 seguita poi da quella contro il Verona al Franchi per 0-1 e infine l'ultima di domenica scorsa contro il Cagliari. Domani la squadra di Montella avrà un'occasione unica per provare a ritirare su il morale soprattutto in vista della semifinale di Europa League che ci sarà la settimana prossima quando i Viola affronteranno il Siviglia all'andata. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella oggi in conferenza stampa è tornato appunto sulla sconfitta contro il Cagliari su tutte le polemiche che hanno seguito appunto in questo 1-3 casalingo spiegando le sue ragioni soprattutto in merito al ritiro che magari la Fiorentina, la società Andrea della Valle in primis avrebbe voluto ma Montella ha risposto negativamente perché pensa che sarebbe stato controproducente per la sua squadra.